Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Arrivano conferme social sul presunto flirt tra Perla Vatiero, ex vincitrice del Grande Fratello, e l'influencer Joseph Annunziata. Nonostante l'ufficialità manchi ancora, i due sembrano essere più che amici. Dopo l'ennesima separazione da Mirko Brunetti, Perla sembra pronta a voltare pagina e dedicarsi a una nuova storia d'amore. Le voci sul flirt tra lei e Joseph sono sempre più insistenti, soprattutto dopo che sono stati beccati insieme a Milano. Nonostante nessuno dei due abbia confermato ufficialmente la relazione, i fan sono sicuri che ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. Joseph Annunziata, influencer e ex calciatore, ha partecipato al programma Come una volta un amore da favola e ora punta a diventare un attore per le serie tv Netflix. La sua presunta storia con Perla potrebbe aiutarlo a realizzare questo sogno. Restiamo in attesa di ulteriori conferme ufficiali, ma intanto i fan sono già in fermento per questa nuova coppia che potrebbe conquistare il mondo dello spettacolo.